Batman è un film del 1989 diretto da Tim Burton. Basato sull'omonimo personaggio della DC Comics, è interpretato da Michael Keaton, con Jack Nicholson nel ruolo del criminale Joker, Kim Basinger in quello di Vicky Vale e Jack Palance nel ruolo del boss Carl Grissom. Fu il primo della serie di film su Batman prodotti dalla Warner Bros.